Ci tengo a ringraziare innanzitutto gli operatori perché l'allestimento di stamani dà anche il segno di un'attenzione e di una cura che si potrebbe quasi avere a casa nostra ed è importante per quanto sia un gesto semplice, è estremamente bello e significativo perché di fatto le mamme, i genitori in generale, perché i fasciatori possono utilizzare anche i babbi dato che anche io sono stato babbo di un figlio piccolo, un po' più grandicello però sono un segno di un'attenzione che permette di sentirsi sostanzialmente a casa e secondo me contiene anche un invito di per sé perché i locali pubblici, gli uffici pubblici bisognerebbe che intraprendessero questa strada perché non è che sia necessità di allattare o di cambiare un bambino o una bambina esclusivamente in una struttura ospedaliera è una necessità tutte le volte che ci si muove e quindi sarebbe bello che questo potesse essere l'incipit e l'invito per tutte le altre strutture, in particolar modo pubbliche e per i locali anche pubblici per attrezzare di conseguenza